Buonasera, buonasera a tutte le persone che ci ascoltano, a tutte e a tutti, naturalmente. È un grande piacere essere qui oggi insieme a Marcello Fois per chiudere il cerchio che abbiamo iniziato circa un mese fa con Alessandra Sarchi. Mi fa piacere per molti motivi. Il primo motivo è che sia Alessandra che Marcello sono amici della Festa del Racconto, o perlomeno dall'anno scorso sono frequentatori della Festa del Racconto. Marcello è un amico, ma è anche uno scrittore importante, anche qualcuno con il quale per me è importante confrontarmi a distanza, non perché ci frequentiamo, ma è un confronto a distanza, ma del resto io mi confronto con quello che lui scrive, come mi sembra più che giusto. È un ottimo conoscitore della letteratura, un grande lettore, è veramente un grande lettore, un lettore con un raggio di letture ampissimo, e credo che sia anche un lettore di racconti, inevitabilmente. Ne ha parlato con Alessandra Sarchi pochi giorni fa quando eravamo a Carpi. Insieme ne abbiamo parlato l'anno scorso, cercando di dare un'idea un po' di quella che è stata l'esperienza di Pier Vittorio Tondelli per la letteratura italiana, ma anche per la letteratura di quest'area dell'Italia, e per questo mi sembrava la persona più adatta appunto per chiudere il cerchio. Probabilmente le persone che sono collegate sanno che quest'anno Festa del Racconto è cresciuta, è cresciuta molto rispetto all'anno scorso, ma anche per ragioni molto contingenti. L'anno scorso praticamente Festa del Racconto è stata pensata durante la pandemia con mille incertezze, mille dubbi, mille insicurezze. Quest'anno di molto di meno e con più difficoltà però, più difficoltà dovute al fatto che appunto molti degli ospiti che sono venuti erano già impegnati in tante feste, in tanti festival, ma molti hanno fatto uno sforzo per essere a Carpi, a Novi, a Soliera, a Campo Galliano. È cresciuta secondo me anche come impatto forte sulle persone che ci hanno ascoltato, sul pubblico, che ha affrontato anche delle giornate di grande caldo, non come queste qui, ma un annuncio del grande caldo, pur di sentire appunto gli scrittori e gli intellettuali che hanno parlato del racconto. Allora la mia è una funzione puramente, diciamo così, di maggiordomo che apre una porta e dice entrate perché adesso ascolterete o vedrete o vi sazierete a un banchetto molto ricco. voglio solo sottolineare il fatto che il tema di quest'anno era la meraviglia, ma intesa non nel senso che potrebbe intendere qualcuno che pensa ancora alla meraviglia come lo straordinario che esce dal quotidiano, ma la meraviglia che è nel quotidiano, quella meraviglia che ci circonda, quella meraviglia che è al centro di molti racconti che abbiamo evocato durante quei cinque giorni. Come numero tutelare abbiamo preso il fotografo Luigi Ghirri, che non credo ci abbandonerà neanche nei prossimi anni perché in un certo senso è un perno sul quale ruota molta cultura emiliana e non solo emiliana del novecento. Vorrei ricordare a tutti che quest'anno Ghirri è stato portato in tutto il mondo dagli eredi, dalle due figlie, è stato portato fino a città del Messico, quindi probabilmente in Ghirri c'è una lingua che sa parlare a molte orecchie. Adesso lascio a Marcello il compito di raccontarci quello che lui pensa intorno alle forme del racconto, perché le forme del racconto hanno una loro identità che le differenzia dalle altre, quali sono i racconti che gli piacciono, come lui ha inteso il racconto anche quando non ha scritto racconti, ma quando ha scritto magari romanzi, come ha inteso l'attività del raccontare, se vuole dirci che cos'è secondo lui la meraviglia, cosa che abbiamo chiesto a molti degli iscrittori invitati, ci fa un grande dono. Insomma, adesso Marcello è libero per circa un'ora di interagire con tutti noi, soprattutto con tutte e tutti voi, e poi naturalmente credo che sia disposto anche a interagire colloquiando, sempre con questa strana forma per cui, per ragioni di privacy, noi possiamo leggere le vostre chat o ascoltare la vostra voce alla fine dell'intervento di Marcello, ma non possiamo vedervi in faccia. Le vostre facce un po' ci mancano, le vostre reazioni un po' ci mancano, però questo è il vincolo, è il vincolo della forma che abbiamo adottato. Come si dice in molti dialetti, è meglio questo piuttosto che niente. Grazie Marcello, ti ringrazio fin d'ora per mettere a disposizione di tutti noi il tuo tempo e ti ringrazio fin'ora per quello che ci saprai dire intorno al tema che ci ha appassionato per tanti giorni della prima, della seconda, anzi settimana di giugno. A te. Poi, allora, intanto grazie a voi per questa bellissima opportunità. Il Festival del Racconto di Carpi è davvero un gioiello sotto molti aspetti perché apparentemente si occupa di un sottogenere, poi di fatto invece si occupa di un genere completamente autonomo e importante come racconto. Viviamo purtroppo in una stagione un po' triste dal punto di vista proprio del giudizio che abbiamo o del pregiudizio che abbiamo rispetto a certe forme e quindi ancora si sentono delle persone che dicono questa è una nazione dove i racconti non funzionano, il racconto non vende, un po' è una specie di succursale della poesia sotto certi aspetti come se racconto e poesia fossero due parole tremende, anzi sono due parole di base per quanto mi riguarda. Io sono un narratore e il narratore ha come base, come mentalità quella narrativa, è la sintesi più più strepitosa di qualunque mentalità narrativa è quella di avere la capacità di congegnare una storia breve che abbia in sé il talento della naturalezza e contemporaneamente però che sia invece in tutto progettata. Questo è un po' il miracolo, è la meraviglia. Vorrei simutoarla questa parola. Se mi chiedeste cos'è la meraviglia di un racconto, la meraviglia di un racconto è questo apparire completamente fluido, completamente genetico, completamente spontaneo ed essere invece assolutamente preciso, assolutamente progettato, assolutamente artificiale mutuando appunto la parola arte. L'arte è di fatto l'artificio del vero, è l'illusione del vero, è come noi ricostruiamo il vero, è come noi rendiamo straordinario l'ordinario e la letteratura fa questo lavoro e i racconti lo fanno in una maniera strepitosa, istantanea. Il racconto è veramente come un atto aerobico che deve funzionare al primo colpo, non ha possibilità di remissione, non ha lo spazio di un romanzo per rimettersi, diciamo così, in riga, però ha più spazio di una poesia, quindi ha in qualche modo una necessità narrativa più ampia. Quindi il racconto è davvero uno dei territori in cui si può misurare il fisico degli autori e degli scrittori, non a caso grandissimissimi scrittori, cioè persone che hanno con la scrittura un rapporto di grande dimestichezza, perché questo ci vuole per un racconto, ci vuole una dimestichezza enorme, ci vuole una capacità di sintesi, ci vuole la capacità di congegnare una storia prima che questa storia venga scritta e si deve fare in uno spazio tutto a sommato breve. Con i racconti noi in pratica impariamo il punto di vista narrativo, noi cresciamo attraverso le fiabe, attraverso i racconti, che sono piccole storie con un intento in qualche modo che è narrativo, che è dimostrativo, che è ignomico, che è in qualche modo educativo. Qualche giorno fa a Repubblica delle Idee si parlava proprio di... ho provato a fare l'elogio di questo termine che in questi periodi, in questa stagione miserrima è entrato, diciamo così, nella lista delle parole, delle parole ingiuste, no? Per cui adesso pare che se uno parla di educazione sta in qualche modo parlando di un argomento non frequentabile, non si può più dire intellettuale, non si può dire resistenza, non si può dire educazione, perché pare che l'educazione sia semplicemente una sovrastruttura non democratica, no? L'educazione ti impedisce di fare quello che ti pare, perché? Perché è il sintomo di qualche norma che ti è stata impartita nel corso del tempo e che quindi è necessario, è giusto disattendere. Quindi l'educato ormai è diventato fesso sostanzialmente e quindi l'ineducato è invece colui, è l'uomo dei nostri, è l'uomo vitruviano dei nostri tempi che esprime quello che gli pare quando gli pare con lo stesso, diciamo, senza preoccuparsi appunto dell'interlocutore, senza preoccuparsi del linguaggio e così via. Insomma, questo tipo di umanità era già stata catalogata tra l'altro nel 300 da Boccaccio, quindi è evidente che i racconti dell'umanità ne sanno qualcosa molto prima che anche noi riusciamo a... molto prima che noi stessi riusciamo a concepirla, ma la letteratura un po' ha questa maledizione, no? Joseph Roth diceva che il grande scrittore produce una letteratura sempre in anticipo, sempre in ritardo, mai puntuale e questo significa generare, come dire, un pensiero laterale che non è consolatorio, che non ti dà risposte ma ti fa domande, che non conferma, che non è gestito sulla conferma di quello che tu sai o credi di sapere, ma invece è in qualche modo gestito sull'idea che esiste sempre un altro punto di vista dietro l'angolo, esiste sempre una meraviglia che ci si può conservare, no? Perché la consolazione di fatto è assenza di meraviglia, è conferma costante di quello che tu pensi e quindi è assolutamente una sorta di conferma della normalità. Ecco, il racconto da questo punto di vista cerca di svolgere proprio questa funzione, di essere un piccolo spazio di devianza, uno spazio attraverso il quale le esperienze vengono messe alla graticola e istantaneamente vengono servite sulla tavola del lettore senza che per questo ci sia una soluzione. I racconti tendenzialmente prevedono che una soluzione te la trovi tu, no? Quando le favole finiscono e vissero felici e contenti, cominciano con, c'era una volta, quindi cominciano con un inserimento nel tempo e finiscono quando arriva la felicità. Questo indica che la felicità, per esempio, come giustamente Proust faceva notare, la felicità non fa letteratura, non c'è, la felicità non è un argomento in generale, semmai l'argomento è la ricerca della felicità, il trovare la felicità, quello è un argomento, ci si riesce, non ci si riesce, è un altro paio di maniche, ma di fatto tutte le volte che arriva la felicità dentro un romanzo, dentro una storia, dentro un racconto, dentro un resoconto, eccetera, quel resoconto è finito, si chiude lì, Renzo e Lucia si sposano, i promessi sposi finisce, punto, no? Nonostante poi uno possa ipotizzare altri finali dei promessi sposi, una vendetta di qualche parente, che ne sono, insomma, si può fare un sacco di cose, però di fatto, dentro la famigliola di Renzo e Lucia che hanno fatto undici figli, che Manzoni lentamente sposta la macchina da presa, la fa andare via, chiude le porte e via, insomma, e finisce. Questo punto di vista nei confronti della narrazione ci viene dai racconti, ci viene dalla nostra formazione di base, appunto, dalle fiabe che ci vengono lette da piccoli, che sono storie e paradigmi, sostanzialmente. Quindi tra il c'era una volta, dissero felici e contenti, noi chiudiamo il cerchio delle possibilità e delle opportunità, non c'è nient'altro in fondo da raccontare. Nella storia della letteratura, quando noi ci illudiamo di poter essere originali, quando noi ci illudiamo che basti l'ispirazione, quando noi ci illudiamo di poter scrivere qualcosa che non è mai stato scritto, è evidente che abbiamo letto molto poco e che anche siamo stati, non siamo stati allevati con fiabe abbastanza, come dire, abbastanza confacenti, abbastanza precise da quel punto di vista. E quindi, quando si parla del racconto, si parla davvero del pilastro su cui si costruisce la mentalità narrativa, da tutti i punti di vista. Chi sa fare un racconto sa fare quasi tutto il resto, senza troppi problemi. Chi sa entrare dentro la logica di un racconto perfetto, è evidente che poi può avanzare verso una logica più ampia. Non fate mai l'errore di pensare che il racconto sia un romanzo sintetico, né fate al contrario l'errore di pensare che il romanzo sia un racconto invece abbondante, espanso. Quando un racconto diventa un romanzo evidentemente non era un racconto, era un romanzo appunto. Un racconto basta a se stesso. Questo, tra l'altro, in uno splendido testo di riflessione di Carver, a proposito proprio dello scrivere racconti, e lui diceva esattamente questo, non ho mai incontrato una cosa che volesse essere un'altra cosa. Carver voleva essere un poeta, per esempio, e quando ha capito che la poesia non riusciva a saturare, non rientrava dentro il tipo di mentalità che lui aveva messo a punto, improvvisamente è sorto il racconto. È raramente romanzo, anzi direi quasi mai. Sono abbastanza pochi gli autori che attraversano questi due sistemi con la stessa qualità. In generale i romanzieri tendono a fare racconti un po' troppo lunghi, diciamo dei romanzoidi, avrebbe detto Gillo Dorfless, mentre invece gli autori di racconti tendono a fare dei romanzi molto racemici, molto asciutti, poco espansi. Quindi un esempio di questo tipo in Italia, per esempio, una grandissima autrice di racconti è Valeria Parrella, oppure ancora molto molto grande, geniale, Michele Mari. Sono autori che appunto in quella dimensione ci sanno fare. Volevo farvi un esempio molto molto veloce di quello che io ritengo un racconto perfetto ed è un piccolo racconto degli inizi dell'ottocento dei fratelli Grimm. Credo che sia forse il racconto più breve dell'intera collezione dei fratelli Grimm, ma se avete cinque minuti, perché cinque minuti dura la lettura, vi faccio, provo a leggervelo in maniera integrale perché capiate che cosa intendo io per meraviglia istantanea, cioè per grande progettazione. Chiaramente è una fiaba dei fratelli Grimm, quindi inizia con c'era una volta ed è così. C'era una volta un povero vecchio infermo. Le ginocchia gli tremavano, non vedeva, non sentiva nulla e non aveva più denti. Quando sedeva a tavola riusciva stento a tenere il cucchiaio, sicché versava alla minestra sulla tovaglia e gliene colava anche fuori dalla bocca. Il figlio e la nuora ne erano disgustati. Così il vecchio nonno dovete finire col sedersi in un angolo dietro la stufa e gli diedero da mangiare in una scodellina di terracotta e per giunta in quantità sai scarsa ed egli guardava con tristezza verso la tavola e gli occhi gli si inumidivano. Una volta le sue mani tremanti non riuscirono a tenere ferma la scodellina che cadde a terra rompendosi. La giovane donna lo sgridò, ma egli non disse nulla e sospirò soltanto. Allora gli comprarono una scodellina di legno per pochi soldi e lo fecero mangiare in quella. Mentre se ne stavano seduti là il nipotino di quattro anni metteva insieme delle assicelle per terra. Che cosa stai facendo? Gli chiese il padre. Faccio una piccola scodellina di legno rispose il bambino perché ci mangiate tu e la mamma quando sarete vecchi. Fine del racconto. Allora questo per me è un racconto perfetto assolutamente perfetto cioè non c'è niente di più di quello che deve esserci, c'è tutto quello che occorre che ci sia, c'è un universo, c'è un progetto, c'è una strategia, cioè tutto quello che viene scritto viene scritto in virtù dell'obiettivo che si vuole raggiungere. Questo è fare il racconto. Molti molti anni dopo su questa base un Michele Mari scrive un racconto assai un po' leggermente più lungo ma veramente leggermente più lungo che vi leggo che vi leggo perché mi piace l'idea di farvi leggere questi due racconti che distano oltre un secolo l'uno dall'altro perché l'altro racconto di Mari si intitola Le sere di Marcellino ed è un racconto chiaramente ispirato a questa base dei fratelli Grimm dove vedrete che si è spostato proprio l'indice, il tipo di... il protagonista si è spostato mentre il bambino è il protagonista finale di questo finale terribile La fiaba dei Grimm è invece il protagonista del racconto di Mari che ha anche un nome e che vedete bene sono due racconti a tavola tra l'altro quindi... Ma ma il... adesso ve lo leggerò e capirete in che senso proprio è stato spostato l'indirizzo proprio nei confronti della storia che viene scritta cioè il fratelli Grimm hanno... ha raccontato l'infelicità e la solitudine della vecchiaia è quello che ne consegue Mari Fa invece un'altra cosa di cui parleremo dopo che vi avrò letto questo brevissimo ugualmente racconto To, mangia Marcellino guardò il piatto e pensò tre Uno il pane, due l'acqua, tre la pasta al sugo Appena nato al mondo dei possibili però quel numero era già trasformato nel successivo Tre la pasta, quattro il sugo Ma già mescolando i maccheroni Marcellino si corresse, quattro il sugo, cinque il parmigiano Barava con se stesso, indugiava per procurarsi il piacere dell'addizione Bastò il primo boccone perché la sua mente precipitasse alle conclusioni Sei l'olio, sette l'aglio Frugò con la forchetta alla ricerca di un pezzo d'aglio che avvalorasse il conto Lo trovò e ribadì aglio sette e subito dopo con la volutà dell'oltranza sale otto Per secondo ottimamente c'era la ratatouille Cioè ciò che permise a Marcellino di scatenarsi in diverse serie di computi fondate su diversi Ordini degli ingredienti Cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia, aveva imparato a scuola ed era vero Queste sequenze obbedivano esclusivamente a una ragione combinatoria Tuttavia una di esse, a giudizio di Marcellino, corrispondeva ad un'oggettiva gerarchia ontologica ed era Peperoni 9, melanzane 10, pomodori 11, zucchine 12, cipolle 13, olio 14, aglio 15, basilico 16, sale 17 Poi si ricordò di aver già rubricato olio e l'aglio e il sale al capitolo pasta E a malincuore li espunse scendendo a 14 Un indivisibile pera fissò il totale a 15 Numero che Marcellino continuò a ripetersi per un po' di tempo prima di concedersi la lettura di un giornalino Poi fece la pipì, si lavò i denti, si mise in pigiama Infilandosi nel letto pensò che a ripararlo dal freddo c'erano la canottiera, il pigiama, il lenzuolo, la copertina La trapunta e il risvolto del lenzuolo Cinque cose e mezza che potevano valere per sei Più i muri della casa, sette Con le 15 cose mangiate faceva 22 Più i quattro sculaccioni del pomeriggio, 26 Preferiva il 27 però Perché era un multiplo di tre e perché 2 più 7 dava 9 Allora si alzò, tornò in bagno, baciò la propria immagine allo specchio Poi spense la luce e si rinfilò nel letto Bacino della buonanotte, 27 Bellissimo anche questo Un racconto sulla solitudine dell'infanzia Pensate un po', il contrario Solitudine dell'infanzia Questo bambino che si chiama Marcellino, badate bene Per Proust si chiama Marcellino Perché non so se voi abbiate Chi ha letto la research o chi ha iniziato a leggerla Chi chi l'ha affrontata eccetera eccetera Ricorderà che la research La ricerca del tempo perduto inizia con il bambino Col piccolo Marcello si presume Che aspetta il bacio della buonanotte dalla mamma Quindi questo Marcellino Il bacio della buonanotte Questo Marcellino se lo deve dare da solo in bagno Cioè lo deve dare a se stesso E credo sia il racconto sulla solitudine dell'infanzia Più 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 straziante che io abbia mai letto E più bello sotto certi aspetti Come vedete la variabile, la variante Tra il racconto diciamo così dei fratelli Grimm Che è un racconto di base Una specie di pasta madre Nel racconto contemporaneo di Mari È diventata praticamente un altro impasto Un'altra lievitazione Ma sempre, sempre, sempre con lo stesso sistema Di avere poco spazio a disposizione Di avere una precisa strategia Mari in questo racconto vuole arrivare Al bacio della buonanotte sostanzialmente Cioè vuole arrivare al fatto che Se questo bambino deve avere un bacio della buonanotte Deve alzarsi e procurarselo per conto suo Nessuno è lì presente per dargli un bacio della buonanotte E tutto il suo universo di solitudine computativa È, come dire, è l'accompagnamento a questa scena finale Come vedete qui la ciotola di legno e il bacio della buonanotte Da un punto di vista prettamente diciamo così tecnico Coincidono perfettamente Quando noi scriviamo un buon racconto Dobbiamo chiederci dov'è la ciotola di legno Oppure dov'è il bacio della buonanotte In questo caso Ecco Il racconto ha questa meravigliosa Toccante tensione Sempre Sempre Il racconto è un'idea È come un fiammifero Si illumina Ti illumina Illumina intorno a te Per un periodo brevissimo E tu devi stare attento Devi stare allerta A guardare il più possibile Per quanto duri questo fiammifero Questo cerino Perché oltre c'è il buio Oltre c'è l'altro fiammifero Che tu devi accendere Quindi che in generale è il racconto È il racconto successivo La forma racconto in qualche modo Noi l'abbiamo L'abbiamo Selezionata Cioè ecco La forma racconto è una dei grandi patrimoni Diciamo Della cultura italiana Da tutti i punti di vista Intanto perché Il racconto è una specie Di derivato primo Dalla narrazione Quindi dall'oralità Dalla capacità In Sardegna si dice Contos de fochile Cioè racconti davanti al caminetto Sostanzialmente Noi Io che vengo per esempio Da una cultura Che è diventata chirografica Quindi che ha accettato la scrittura Molto tardi rispetto alle culture Alle culture che la circondavano Il racconto è proprio una specie di atto Che si fa intanto fisicamente Col fiato Lo scrittore Dalle mie parti Era in qualche modo Uno che si permetteva di fissare Cose che invece erano Narrazioni che invece erano Volatili Che dipendevano Dal tono del narratore Che dipendevano Dalla capacità Di attesa Che questo narratore Sapeva costruire Intorno alle storie Che dipendeva Quasi di più Che dalla storia stessa Cioè c'era una coreografia C'era una Drammaturgia Della narrazione Che la scrittura In qualche modo Raffreddava Rendeva Accademica C'è a questo proposito Per esempio Si spiega anche in questo modo Diciamo così La storia dell'inimicizia Tra questo paese E il suo premio Nobel Per la narrativa Che poi è Grazia Dele E la grandissima scrittrice Grandissima scrittrice Di racconti Proprio derivando Da una Da una Come dire Appunto Da una cultura Da una cultura orale Volevo Cercarvi Un piccolo racconto Della Dele Che io trovo Assolutamente meraviglioso E soprattutto Incredibilmente Avanti Rispetto al suo tempo E un piccolo racconto Che però posso raccontarvi Facciamo così Proviamo a riportarlo Proviamo a riportarlo Diciamo così Nella sua Nella sua forma Prima Se non riesco a trovarlo Ve lo racconto Facciamo così E Colpevolmente Non l'avevo cercato prima Perché mi è venuto in mente Mi è venuto in mente Mentre lo stavamo Mentre Lo Mentre ne stavamo parlando Quindi proprio è stata È una roba molto Comunque È un racconto che È Ha un argomento piuttosto scabroso È un racconto del 1911 Tra l'altro Quindi Abbastanza Ed è un racconto che parla di un giovane Di un giovane che deve Si guadagna Diciamo così Che non ha un lavoro È figlio Ah scusate Sì sì Giustamente Mi chiedono il titolo Si intitola Un uomo e una donna È la storia di un giovane che vive in una In una casa cantoniera Cioè che si vive con i vecchi genitori In questa casa cantoniera È un giovanotto abbastanza nulla facente Questi genitori qui hanno una piccola osteria Dentro la casa cantoniera Sono abbastanza poveri E appunto durante una sera Con qualcuni esercenti Dentro questa Osteria Questo ragazzo Che si chiama Gaspare Sente parlare Due appunto esercenti Che vogliono comprare Dei terreni da quelle parti E che raccontano di questa donna Nel paese vicino Di questa vecchia donna Che si è trasferita nel paese vicino E che insomma offre Diciamo così Dei favori sessuali Ai giovanotti E li paga Insomma Ricerca Giovani uomini Per avere Diciamo così Una soddisfazione sessuale È una donna A cui piacciono Gli escort Molto giovani Pensate Il Pensate già All'argomento Stiamo parlando appunto Di un racconto del 1911 Scabrosissimo Per la stagione Questo ragazzo Che ha sentito questa cosa Pensa di essere Assolutamente Di essere un candidato Perfetto Dice Beh sono giovane Non sono male Vado Faccio finta Di 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 voler comprare qualcosa Perché pare che questa donna Tra l'altro Che si è trasferita nel paese Vecchia Ci tengono a dire Abbiamo messo su un piccolo Un piccolo Una piccola rivendita Di biancheria Di coperte Lenzuola Non so se vi suona Vi suona il doppio senso Di questa cosa Nei racconti Cioè nei romanzi Può sfuggire qualcosa Ma nei racconti E badate bene È sempre Sempre importantissimo Il particolare Cioè Tutto importantissimo Tra l'altro La donna In questione Si chiama Onofria Dau Che ha un nome Straordinario Cioè Onofria Quindi la radice Di offrire Di offrirsi E Dau La radice Di dare Verbo dare Cioè questa donna Si offre E si dà Ufficialmente Nella Vox Populi E Bene Il giovane Gaspari Quindi ruba Qualche soldino Dalla Sottana della madre Che sta dormendo E si incammina Verso il paese Per andare Da questa vecchia A cui offrire Favori Sessuali Farsi pagare Congruamente E poi Prendere il primo Il primo bastimento Per l'America E andarsene Questo è il suo progetto Quindi Gaspari va Mentre cammina Chiaramente Come Come Renzo Tramaglino Con i capponi Ragiona Argomenta Dice Se mi dice questo Io gli dico questo Quanto Spero che non sia Troppo brutta Ma in ogni caso Ce la farò Mi girerò Da un'altra parte Chiudo gli occhi E così via Certo insomma Che una vecchia Così insomma Mi dovrà pagarmi Parecchio Perché io No Le offra La prestazione Che crede Eccetera Eccetera Insomma In tutti questi In tutti questi Pensamenti In tutte queste Arcommentazioni Il giovane Gaspari Raggiunge Finalmente La casa Di Onofria Da Obussa Di notte Gli viene ad aprire Un signore Che dice Cosa vuoi E lui dice Sono qua Perché Mia madre Non sta bene Ne ho bisogno Di comprarle Una coperta Ho qui Dei soldi E quindi E dice Questo uomo Probabilmente Un domestico Dice Beh A quest'ora Vieni Badate bene A quanti contatti Con la famosa Notte Con la famosa Notte Dei misteri Degli inganni Di Manzoni E anche qui Si arriva di notte Anche qui E non si sa bene Per quale motivo Anche qui si entra Diciamo così Con una specie Di inganno Eccetera Insomma Gaspare Com'è che non è Riesce a farsi A farsi introdurre Da questo Da questo tipo Che gli ci aspetta Qui Eccetera Ma Qual è Il bacio Della buona notte In questo caso O è Qual è La ciotola Di legno Il bacio Della buona notte E la ciotola Di legno E che Onofria Dau O sì Palesa A un certo punto Con una coperta Per lui Ed è Bellissima E giovanissima E lui La vede La guarda E capisce Che Direi quasi Parafrasandola Della E lui Capì Che Insomma Lui Non ce l'avrebbe Mai fatta Con questa donna E soprattutto Che lei Non aveva Nessuna intenzione Di avere a che fare Con lui Cioè lui Viene messo Di fronte Alla sua Completa Inabilità Ma completa Anche Impossibilità Proprio Di avere a che fare Con questa donna Qua La quale donna Gli dice Guarda I tuoi soldi Sono molto pochi Ma visto che tua madre Sta male Prenditi pure Questa copertina Dammi i soldi Che hai E poi Mi raccomando Curala Ecco E fai in modo Che tua madre Sia curata Per cui Il racconto Finisce Con la porta Di Onofri Adau In cui Della Meravigliosa Bellissima Giovane Onofri Adau Che si chiude Alle spalle Del giovanotto Il quale guarda La coperta Che deve portare A casa Della madre E Per la quale Ha dato via Tutti i risparmi Che ha trovato In casa Fine del racconto Ok Quindi Vedete bene Che Come dire In qualunque Sistema racconto Noi dobbiamo Raggiungere Il punto Chiave Cioè Dobbiamo raggiungere Il punto In cui Appunto Quella che voi Dentro La vostra mente Potrete chiamarvi D'ora in poi La ciotolina Quando scrivete Il vostro racconto Dovete dire Dov'è La mia ciotolina Di legno Come è fatta Il mio piattino Di legno Il mio bacino Della buonanotte La mia Onofria Dau Com'è Cioè Qual è No Pensate A forse Uno dei racconti Più belli In assoluto Dell'umanità No Che è Il racconto Di federico Degli alberighi Nel De Camerone No Quello è un racconto Assolutamente Perfetto Perché C'è il Buon cavaliere Che è innamorato Di Di Monna Giovanna Il cavaliere È di famiglia Nobile E antica Addirittura Esercita ancora Lo sport Del falcone Monna Giovanna È figlia Di Arrembanti Nuovi Borghesi Imprenditori E quant'altro Lui È innamoratissimo Di lei E Si 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 Impoverisce Pur di Di Conquistarla Ma lei Sposa un altro Sposa un altro Ha un figlio Con quell'altro Poi rimane vedova Nel frattempo Il nostro buon Federico Ormai Completamente In miseria Si è andato Per ritirare Nell'unico Pezzettino Di Di Terra Che gli è rimasto Dove Dove Praticamente Si nutre Delle pochissime cose Che Che La terra Gli offre Con questi Contadini Poveri Che gli sono Rimasti vicini E come unico Bene C'ha Questo falcone Che il suo Che anche Il sintomo No Di 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 Quello Che è stato Che non è più E E così A un certo punto Il Arriva Si avvicina La nostra Ciotolina Di legno Che cosa succede Succede Che Monna Giovanna Che è rimasta Vedova Ha un figlio Malato E lo deve E lo porta In campagna Per Perché Prenda Dell'aria buona E La casa Di campagna Confina Guardate un po' I casi Della vita Col Col piccolo Podere Di Federigo Degli alberichi Cioè del suo Antico Spasimante E nel Mentre Che insomma Si fa Questa villeggiatura Di salute Col bambino Questo bambino Vede volare Questo meraviglioso Falcone Avanti e indietro Cioè i figli I figli Della borghesia Che hanno In qualche modo No Uno Che hanno Questa vanità Della nobiltà Federigo degli alberichi È sì Un racconto D'amore Ma anche Un racconto Politico Molto importante Se non che Il bambino Si ammala Gravemente Si aggrava Molto E mentre È nel letto Dice alla mamma Che il suo Più grande desiderio Sarebbe quello Di possedere Quel falcone Che vede volare Davanti a lei Per cui Monna Giovanna Per la salute Del figlio Per la bellezza Del figlio Decide Di Umiliarsi Davanti All'uomo Che ha rovinato In qualche modo Per chiedergli Appunto La possibilità Questa possibilità Quindi Lei si presenta E quando Lei si presenta Lui si accorge Che il suo Sentimento In tutti questi anni È rimasto intatto Che non ha Nessun tipo Di recriminazione Nei confronti Di questa donna Che lui Continua ad adorarla E E capisce Che in casa Non ha niente Per lei Quindi Come dire Come atto Estremo D'amore Gli fa Cucinare Il falcone E la La intrattiene A pranzo Quindi Lei si stiede Mentre Sono a pranzo Che stanno Mangiando Il falcone Lei Gli spiega Il motivo Per cui è andata Dice Sono venuta Qui per chiederti Il falcone E lui Dice Bene Il falcone In questo momento Te lo stai mangiando Pensate un po' Che meraviglia Che meccanismo Pazzesco Che orologio Meraviglioso E questo racconto Che mischia Il problema Mischia proprio L'amore Di quest'uomo Col problema Più sociale Più generale Questo è veramente Un racconto Sulla fine Di una stagione Sulla fine Di una società E l'inizio Invece Di un'altra Di un'altra Importante Imponente Società Boccaccio È un genio E quindi Lui Purtroppo Gli deve comunicare Che il falcone Non esiste più Nel senso Che il falcone Era l'unica cosa Che aveva Sì Leggo qui Come la ballata E l'amore cieco Di Andrea Esatto È il L'ispirazione Di quella canzone È proprio Federico E gli alberighi Ma direi quasi L'occunto Dell'icunti Quando Quando lei Si deve mangiare Il cuore del drago Comunque In ogni caso Dicevo Il buon Il buon Federico Non può Non può Accontentare L'unico Desiderio Che avrebbe potuto Accontentare La sua donna Il racconto Il racconto Finisce bene Perché Il bambino Muore Perché in ogni caso Era malato E Monna Giovanna Poi sposa Federico Sposa Federico Perché Dice lei È più interessato a me Che al mio patrimonio Che ai miei soldi E questa è una cosa È una cosa Anche questa È una cosa Che dal punto di vista Di Boccaccio Era piuttosto Piuttosto Rivoluzionaria Come Come soluzione Ecco Il Mi scrivono Come definirebbe Queste soluzioni Beffa Ma no Beffa no Direi che Che la beffa La fa il destino In questo caso No La beffa del destino È assai Atroce Sempre più atroce Di quella Che noi possiamo Possiamo Come dire Possiamo immaginare noi Ecco In generale La beffa degli uomini È sempre Ha sempre un fondo Di 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 Mostruosità Mentre invece Quella del destino Ha proprio un fondo Di 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 fatalismo Ecco Cioè Direi che la beffa La beffa in quanto tale È un atto morale Mentre invece I grandi racconti Non Non hanno Non hanno Una Una Vera E propria morale Forse E questo Forse risponde alla domanda Che mi è stata appena fatta Cioè novella o racconto Che differenza Beh c'è C'è una differenza Sono sfumature Direi C'è una differenza Di misure C'è una differenza Di intento Ecco La novella È appunto Come questa Di Federico degli Alberighi O come quella Dei fratelli Grimm Una storia Che tende A allargare Diciamo così L'insegnamento Da Da un fatto Da Da un fatto Minimo A un fatto Invece che deve diventare Metaforico Cioè Veramente Federico degli Alberighi È il più Immenso Uno dei più grandi romanzi Racconti Politici Che siano stati fatti Cioè Se uno vuole capire Qual è stato Il passaggio Nel 300 Tra La nobilità Di tunica La nobilità Di spada E la borghesia Avanzante I bardi I medici E quant'altro Ecco Quel racconto Lo spiega Quella novella Lì Lo spiega Assolutamente Racconto È quello di Mari Per intenderci Racconto Invece È quello che ha Una È La novella Dopo Freud Per intenderci Ecco La novella Dopo Diciamo così Dopo che abbiamo capito Che anche i nostri Fatti Personali Le nostre solitudini I nostri Tic I nostri Problemi Possono essere Material di racconto Ma Per esempio Federico e Mona Giovanna Non sono solo Se stessi Rappresentano Proprio Delle strutture Sociali Delle strutture Fisiche Quindi Si comportano Di conseguenza Il marcellino Del racconto Di Il marcellino Del racconto Di 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 Mari Invece È Un Come dire È È un Giovane È È un Cucciolo Di Umano Che Deve ragionare Sulla propria Solitudine Leggo Insomma Malpelo E di cosa parliamo Quando parliamo D'amore Di Carver Se non sbaglio Sì Esatto Anche Non c'è dubbio Che tra questi due No Rosso Malpelo È Un Un racconto Che ha una Una Un Un rebound Come dire Dentro la storia Dentro la società Ma anche Carver In fondo E anche Mari Solo che Sono cambiati È Cambiato Fondamentalmente Il nostro senso Della storia Della società Tra Rosso Malpelo E di cosa parliamo Quando parliamo D'amore Appunto C'è Freud C'è Proust C'è Joyce C'è Un'idea Della letteratura Che Che non è più Così Indipendente Ma che dipende Anche da altre Da altre arti Quando 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 Boccaccio Scrive Scrive Federico Degli Alberighi O quando Appunto Verga Scrive Rosso Malpelo La letteratura Era praticamente Autosufficiente Cioè Attraverso La letteratura Attraverso La letteratura Uno Doveva Essere In grado Di ricostruire Mondi Oggi Questa cosa Non 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 Ci Sembra Non è più Così Non è più Così Così Diretta Nel senso Che Lo scrittore Stesso Prevede Che il lettore Per certe categorie Le abbia In qualche modo Introiettate Le abbia Introdotte La televisione I giornali I media Vari Ci mettono a contatto Con un sacco Di esperienze Che I Quei lettori Lì Non avevano Per cui I primi lettori Dei Promessi Sposi Dovevano sapere Tutto In qualche modo Perché Non avevano Un punto Di riferimento Quindi Erano Abbastanza Abbastanza C'era una differenza Sostanziale Proprio anche Da un punto di vista Del fruitore No? Di queste Dove collochiamo I racconti di Calvino I racconti di Calvino Li collochiamo In una zona Assolutamente Direi Intermedia Tra queste due Tra queste due Tendenze Tra queste due Tensioni Calvino è sempre Mediale Nella Nella nostra Cultura E nella nostra Nella nostra Letteratura Calvino è sempre Un punto Di Di Congiunzione No? Perché Perché i racconti di Calvino Intanto perché Calvino Si Si forma Con i racconti Tradizionali E quindi Allora Sì Adesso Arrivo Rispondo prima A Calvino Dicevo Calvino si fonda Sui racconti Tradizionali Perché Perché Calvino fa uno studio Importantissimo Dei racconti italiani Li raccoglie E molti Molti Li passa Addirittura Dall'oralità Alla scrittura Eccetera E su questo Innesta Diciamo così La contemporaneità La modernità E innesta Soprattutto Quella meravigliosa Attitudine Che lui aveva E che molti Fanno passare Per Semplicismo Ma che semplice Non è Perché Insomma Essere Essere Semplici Come Calvino Come Calvino È assolutamente Complicato Come lavoro Sulle operette morali Mi scrivono qua Io sulle operette morali Fare un discorso a parte Le operette morali Intanto Non sono racconti Sono 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 riflessioni E sono Sono È un altro È È un altro Genere Proprio Da un altro Punto di vista Perché Perché Il Come dire Leopardi Ha veramente Una Una Un'impossibilità Genetica Ad essere Il narratore Ci ha provato E a fare Esistono gli appunti Per un romanzo Di Leopardi Ma Non l'ha mai Portato a termine Proprio Perché La sua La sua Tensione Era Di altro Genere Quindi Sulle operette morali Forse Avrebbe la pena Di fare Di fare Proprio Un Un Incontro A parte Mi scrive Claudia Dice Purtroppo Ho perso la prima parte Della sua lezione Se non ho capito male Quindi lei sta dicendo Che il racconto Va strutturato Intorno al finale Direi che Sinteticamente Questo potrebbe essere Accettabile Più che al finale Va strutturato Intorno al fine Del racconto Stesso Non al finale In quanto tale Non al finale In senso televisivo Mi dicono E quindi Vorrei che Capiste la differenza Tra il fine E il finale Sono due Proprio due cose Molto diverse Per esempio Tutti i racconti Di Chekhov Sono Strutturati Intorno al fine Non Necessariamente Intorno al finale Magari Nei racconti Di Chekhov Il fine Arriva Al centro Del racconto O a tre quarti E l'ultimo quarto Del racconto È una specie Di straccio Terribile Malinconico Di strascico Terrificante Questo è Una Tensione Una tendenza Di Chekhov Anche nel teatro Tra l'altro Qualcuno ha citato Pirandello Ecco Anche Pirandello È stato Come Chekhov Un grande Scrittore di racconti E un grande Autore teatrale A volte le due cose Le cose Si In qualche modo Si Si riuniscono Forse il racconto È veramente Più a fine A certa Istantaneità Del teatro Ecco A certa Perché è importante Il fine Sostanzialmente Quindi Non so Quanto Vi ho aiutato A dipanare Diciamo così La 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 Straordinaria Avventura Del racconto Ci sarebbe tantissimo Chiaramente Da dire Ci sarebbero Tantissime cose Da leggere Eccetera Io direi Che possiamo Che possiamo Sintetizzare In questo modo Il racconto È Veramente Una Tranche Che però Richiede Un fine Che Non è Un pezzettino Spaisato In mezzo In mezzo Alla realtà È proprio Invece Un microcosmo Concluso Che deve Avere Una sua Come dire Un grande Un grande Produttore Di racconti Per esempio Di Amicis Il libro cuore Dovremmo recuperarlo Da questo punto di vista I racconti mensili Del libro cuore Sono Bellissimi Sono Uno più bello Dell'altro E sono tutti Racconti Formalmente Perfetti Ecco Se vogliamo Imparare Dobbiamo Ricominciare A leggere Senza pregiudizi Perché Perché Quando si legge Senza pregiudizi Si Come dire Si riesce a trovare Dei Tesori Che Invece Il pregiudizio Ci nasconde Ci obnubile Per cui Davvero Buon lavoro Se avete Delle altre domande Io sono qui Non so come Come Si concluda Eccoci Ci sono domande Malamud Certo Bellissimo Sì 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 Ma Max Haub Gli Lippo Sono bellissimi I racconti Quindi Nel mondo del racconto C'è un sacco Di C'è un sacco Di materiale Su cui Val la pena Davvero Di riflettere Un mondo Meraviglioso Differenza tra fine e finale E beh Il fine di una storia È diversa dal finale di una storia Qualche volta il finale Non coincide col fine Ma il fine può coincidere col finale Nel caso per esempio Nel caso di Federico degli Alberighi Il fine è raccontarci appunto Come la borghesia avanzante Divora il passato In qualche modo Si mangia il falcone a tavola Quello è il fine del racconto Il finale del racconto Invece che Mona Giovanna e Federico Poi si sposano Non sempre il fine coincide Col messaggio Con la morale Qualche volta Coincide Sì Qualche volta sì Qualche volta coincide invece Con l'intento sostanziale Dell'autore Pensate un po' Che Faccio un esempio Il Pasolini A Boccaccio Ha dedicato Il decamero Nel decameron Mancava proprio Federico degli Alberighi Che a detta E Pasolini Era il suo Racconto preferito Però lui Però lui non l'ha messo Nel decameron Ma non l'ha messo Nel decameron Perché gli ha dedicato Un film A parte Totalmente Che è Uccellacci uccellini Se voi guardate Nel finale Di Uccellacci uccellini Ninetto Davoli E Totò Si mangiano Il corvo Il corvo E Pasolini Fa un'inquadratura Delle zampe Del becco E delle ali Del corvo Che è una Inquadratura Anastatica Rispetto al racconto Di Boccaccio Anche Boccaccio Dice A un certo punto Che quando Federico Avverte Monna Giovanna Che si è mangiata Il falcone Gli fa vedere Per terra Il becco Le zampe E le ali Del falcone Quindi Il fine Era senza dubbio Quello Dio Dunque Consigli di lettura Io vi consiglio Di 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 provare A riabilitarvi E Con Gli scrittori Italiani In purezza Io credo Che noi abbiamo Bisogno Di rileggere L'italiano In italiano Non è vero Che leggere Stranieri Tradotti È la stessa cosa Sono magnifici Sono bellissimi Fa bene Leggere tutto Eccetera Eccetera Però secondo me Dintanto Intanto Bisogna Riprendere Con Con i massimi Sistemi Cioè Con le cose Che Quindi Per esempio Io vi consiglierei Di Riprendere Con Almeno Tre romanzi Totalmente Che Che hanno Come dire Il cimento Dello stile Senza Il favore Diciamo così Di una lingua Di una lingua Mediata Come può essere Quella Meravigliosa Dei traduttori Non mi Fraintendete Non sto dicendo Che siano peggiori O migliori Sto dicendo Semplicemente Che di intanto Intanto Rifare Il pieno Diciamo così Dilemma Di vocabolario Fa Bene A tutto Per cui Secondo me Chi ancora Chi ancora Non li ha fatti Almeno Questi tre Che sono Tre romanzi Non Grandissimi Ma Ma fondamentali E che hanno Insomma In qualche modo Qualche legame Tra loro Forse Farebbe bene A recuperarli Quindi io Vi consiglierei Quest'estate Di farvi Senilità Di svevo Di rifarvi Il deserto Dei tartari Di buzzati E di rifarvi Il giorno Della civetta Di sciascia Che sono tre Proprio tre Esemplari Di linguaggio Sostanzialmente Di lingua E di linguaggio Tre Esemplari Importantissimi Che forse Ci possono aiutare A rivalutare Lo sforzo Anche Dei nostri Scrittori Senza Senza Diciamo Quella specie Di colonizzazione Sottesa Per cui Sembra che Altri Facciano Sempre meglio Quello che Invece Sappiamo Fare Benissimo Anche noi E questo Mi sembra Assolutamente Utile Dintanto E tanto Cioè Mi sembra utile Proprio Una specie Di piccolo Training Sulla propria Lingua A partire Dalla propria Lingua Poi si fa Si fa Tutto il resto Credo che diventiamo Persone migliori Che se abbiamo Una parola in più È meglio Che se Se riusciamo Come dire Ad estrapolare Da questa Esperienza Anche l'idea Che la nostra È una lingua Stupefacente Meravigliosa A proposito Di meraviglia Ecco Allora forse Non abbiamo Non abbiamo Perso tempo Grazie davvero A tutti Di meravigliosa